L'Anci, l'Associazione Nazionale Comuni, ha deciso di dedicare la giornata internazionale della donna alla condizione femminile in Afghanistan e Iran per esprimere una ferma presa di posizione contro l'operato dei governi di questi paesi. Anche il Consiglio Comunale di Pescara ha adottato una mozione di unitaria di condanna e si impegna a organizzare iniziative dedicate alle donne iraniane e afghane. Proprio oggi la Presidente Montopolino si è attivata in tal senso. Abbiamo colto l'occasione per presentare la costituzione di questo tavolo tecnico solidale a favore delle donne iraniane e afghane. Sappiamo benissimo cosa sta succedendo dal mese di settembre nell'Iran con l'uccisione della ragazza morta per le percosse, i diritti che non sono riconosciuti alle donne né nell'Iran né nell'Afghanistan. Abbiamo raccolto l'invito da parte dell'Anci di formare un tavolo dove iniziare a vedere quali sono le iniziative che possiamo mettere in atto per aiutare le donne iraniane e le donne afghane. Quando si metterà al lavoro? La Commissione Pari Opportunità si metterà al lavoro già dalla prossima settimana. Il tavolo sarà formato da tutte le donne delle Pari Opportunità. L'assessore ha le Pari Opportunità, libero l'accesso al sindaco e al prefetto sia per il controllo dei lavori sia per obiettivi propositivi. Il tavolo è aperto soprattutto alle donne iraniane e afghane che sono qui sul territorio di Pescara e al libero cittadino. Abbiamo istituito una mail, pariopportunità, chiocciolacomune.pescara.it, dove possono pervenire le candidature delle associazioni, dei cittadini che hanno esperienza all'interno delle Pari Opportunità per essere coinvolti all'interno del tavolo.